Il procuratore Roberto Penna chiede di riesumare i cadaveri degli operai ed impiegati all'interno delle fonderie Pisano morti per patologie tumorali alle vie respiratorie dal 1975 ad oggi. La richiesta del PM, arrivata nell'ambito dell'incidente probatorio, è motivata dalla necessità di stabilire il possibile nesso causale tra le morti di tumore e i fumi emessi dalla fabbrica. A valutare l'esistenza o meno di questo nesso causale ci sarà un pool di periti nominati dal GIP Alfonso Scermino. Ieri c'è stata una giornata storica, così la possiamo definire, perché finalmente anche la procura dà risposte concrete, quelle risposte che l'ASL di Salerno, colpevole, non ha mai dato, non ha mai fatto uno studio epidemiologico, invece la procura mette le basi per avviare finalmente quello che chiediamo da vent'anni, uno studio epidemiologico su tutta la popolazione residente intorno alla fabbrica, quella fabbrica che è stato certificato. L'unica cosa certa che c'è fino ad oggi è la certificazione dei veleni che sono usciti da quella fabbrica, dal 2004 almeno ad oggi. Anzi, io direi dalla prima inchiesta del 2004, quando c'è stata la procura che poi l'hanno condannata con patteggiamento, ad oggi sono usciti i veleni. Oggi bisogna dimostrare se c'è un nesso tra quei veleni, i morti e gli ammalati. Noi abbiamo detto questo, abbiamo dichiarato. Se verrà certificato questo nesso, finalmente i nostri morti potranno riposare in pace e finalmente gli ammalati avranno giustizia. Noi ci auguriamo che si faccia nel giusto tempo questa indagine, ma la cosa che ci rende fiduciosi è che si sono scelti dei professionisti epidemiologi, uno tra i quali anche persone che hanno partecipato allo studio a Taranto. Questa cosa ci rende tranquilli e soprattutto abbiamo piena fiducia nella magistratura.